se vede i due esito quando lui via io la rossa mangio via all in all in all in e qua la mano giusta per me sono 2350 lo catteli si mangia le dieta ci va sono quelle io copio di cap vieni ora qua 2300 se perdi non svisate tanto ormai io non sono abituato a perdere 2000 no altri 200 no altri 150 300 nei mesi proprio quelli che sono 2300 2300 oh per l'ennesima volta guarda chi scappa chi siamo? non è andato non l'aveva detto 9-9 asso solo lasso ruggio con 4-2 vince 2-8 scala bravo bravo lo catteli allora ieri hai vinto ma ma grazie a tutti grazie a tutti